Il problema a livello mentale quest'anno è stato devastante, devastante perché comunque abbiamo dovuto superare dei momenti veramente particolari. Vi faccio un esempio, per dirne una, i punti di penalizzazione. Avendo i punti di penalizzazione a livello psicologico è massacrante. Guardiamo l'Aquila, che è una squadra che ha fatto sempre bene durante tutto il campionato, nel momento in cui ha preso i punti di penalizzazione non riesce a esprimere quello che ha espresso prima. Oppure vogliamo parlare del Catania, del Savona, di altre squadre che hanno preso i punti di penalizzazione. A livello psicologico tu vinci, 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 però sei sempre ultimo e quindi è veramente difficile. Noi l'abbiamo superato. Ci è mancato poi lo slancio. Io a un certo punto di questa annata avevamo gli stessi punti dell'anno scorso. Però invece di esaltarci abbiamo avuto ancora problemi. Perché comunque c'è questo velo di amarezza che ci attanaglia un po' a tutti. Questa è una partita da affrontare con il piglio giusto. Perché loro hanno bisogno di punti. Noi da parte nostra dobbiamo cercare di mantenere alta la concentrazione. Non è facile. Quando è vero in settimana ho cercato di stimolare proprio questo aspetto qui. E' una squadra che ha delle qualità anche buone che ci possono sicuramente mettere in difficoltà. Però se giochiamo da Teramo possiamo fare un risultato. Poi c'è da dire anche il discorso dei ragazzi di Beretti che comunque la società ci tiene a valorizzarli e a farli entrare. Quindi bene o male sono molto disposto anche in questo aspetto qua.